In che senso? Quello sta a te. Seve il consiglio col cuore. Quindi Mr. X aveva il destino nelle sue mani. Ancora una volta si ritrovò di fronte al bivio e a dover scegliere, ma stavolta completamente tra Lisa la zozza e Lavi la Lella, così diverse ma con un punto in comune. Sono state entrambe le sue fidanzate ed entrambi continuavano a fargli battere il cuore. Il pelo non fa donne. Ma non ti vergogni. Il pelo non fa donne. And you all can't wanna take us out on a ride. I wanna give you all hat wanna drive us into the fire. If you're asleep I'd like to make a climb, come on. Who cares if it's right or wrong? Grazie a tutti Grazie a tutti I ballerini sempre sicuri Della sua amata canale 5 E allora Sigletta Prego Saro Allora notizia di ieri un po' datata Comunque domenica prossima Domenica 28 settembre 2014 Non andrà in onda la puntata settimanale del segreto Non andrà in onda la puntata settimanale del segreto Pensi in Cesaro E visto il flop Ho ottenuto martedì scorso Tenendo appena un 19% Quindi almeno finché non finisco in Cesaro Mi penso che il segreto non andrà in onda Ma al martedì è previsto un film Una fonte davide mangio Sì e poi in base alle notizie pervenuteci dal Bubino Blog Mi pare che nella settimana dopo la Champions League Quella quindi la seconda settimana di ottobre Sarà trasmesso il mercoledì Per screziare Rai 1 Un film tv con Raul Bova e Vanessa Incontrada Intitolato Angeli Naturalmente per fare diciamo Da ponte tra una serata vuota e l'altra Torniamo alle nostre scenette Ci ascoltiamo un altro Rutilante oserei dire Sprezzante Dica No dico Ho trovato le notizie che dicevi tu Ecco Vai 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 No no Poi al limite la commentiamo dopo la scelta e dopo la canzone Dicevo Rutilante episodio di tvblog.it Intitolato L'armistizio di Roccaraso Scoppiata la pace tra tvblog.it e il sito di Davide Maggio Era il momento Era il momento di firmare l'armistizio Fu scelto un luogo neutrale come la bocciofila di via Roccaraso Dove Antonello Pieroso andava a passare le mattine con Adriano Panatte e Fulvio Abate Da un lato c'era tutta la redazione di tvblog.it esclusa grazie a che era ancora tra le grinfie di Cicalò Dall'altro c'era tutta la redazione del sito di Davide Maggio Il redattore del trattato fu proprio l'ex direttore del TG La7 Per facendo parte di blog.it Egli redasse un documento neutrale Che non ponesse alcun tipo di condizione svantaggiosa Alla presenza dei capi di Stato Maggiore Di tvblog.it e di Davide Maggio.it Lord Lucas e Davide Maggio Viene firmato l'armistizio tra i due siti internet Col presente i firmatari si impegnano a non lanciarsi più accuse e frecciatine E svolgere qualsiasi altro comportamento che possa interrompere lo stato di pace Il primo a firmare fu Lord Lucas Che però era visibilmente turbato dall'assenza di grazia Subito dopo firmò Davide Maggio Il capo redattore di tvblog.it Profittò dei festeggiamenti tra i due ex schieramenti rivali Per scappare via dalla bocciofila e correre ai navigli Sotto i ponti infatti si trovava Cicalò Che subito venne messo con le spalle contro il muro Coglionazzo dov'è grazia? Grazie a chi? Non fare lo ignorri dimmi dov'è Tu dammi i soldi che mi servono Vuoi finire nei navigli o vuoi restituirmi la fidanzata? Fidanzata? Quella lì sarebbe la tua fidanzata? Sì ma... Niente di serio Beh se lei è la tua fidanzata io non so che cosa dire Non me l'aspettavo Ma sei scemo o lo fai? Secondo te perché l'hai trovata a casa mia? Non lo so pensavo fosse una tua staggista e... Sai fosse stata solo quello Lo avrei cantato a tutti e tutti saresti messo nei guai per condotta immorale I nostri codici etici sono molto diversi Cicalò Dimmi dov'è grazia e nessuno ti farà del male Ti fidi di me? Perché? Ti prometto solennemente che grazia sarà a casa tua entro le 4 del pomeriggio Sei libero di spedirmi in qualche miniera di carbone in Kazakistan se non lo facessi Quindi tu mi fai una promessa e metti condizioni per te svantaggiose? Sì Accetto Lord e Cicalò si strinzero la mano come due bravi fratelli ma ciò non significava molto Quest'ultimo infatti aveva comunque bisogno di soldi ma avrebbe attuato altri espedienti per poterli spillare a qualcun altro Ora che suo fratello aveva messo la testa a posto Mentre Lord rincasava però ricevette un messaggio sulla segreteria telefonica da parte di Davide Maggio Probabilmente perché in zona Navigli non c'era campo Weyla, roccia, sono Davide Maggio Al di là delle stronzate scritte nell'armistizio devi sapere che io e te non saremo mai amici E quelli della mia redazione non faranno mai comunella a quelli della tua redazione Pace o non pace mi state antipatici tutti Ricordo una cosa, non durerà ancora molto il vostro primato come sito televisivo più seguito Arriverà il momento in cui noi, Antonio e Genna e 123.com vi supereremo E lì sì che mi farò delle grosse risate Oh, se me le farò Lord Lucas, sdegnato, ebbe quasi voglia di gettar via quel telefonino alla massima distanza da sé Tuttavia, mentre era pronto per parcheggiare la sua vettura vicino casa Scorse di fronte alla porta la sua grazia E quindi qualunque cattivo pensiero lo abbandonò Che cos'è l'amore? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Per l'ultima puntata del Principe In prima serata ci sarà il segreto con due episodi Alle 23.10 appunto l'ultima puntata del Principe Medeset come sempre insegna che la concretezza e la coerenza non sono mai di casa Esattamente, due informazioni di servizio Voi lo sapete che noi l'altra sera abbiamo parlato della chiusura temporanea Poi alla fine è stata dello Zoe 105 Quest'oggi c'è stata una lunghissima, praticamente una maratona radiofonica A cui hanno partecipato naturalmente Marco Mazzoli in qualità di conduttore Pippo Palmieri in qualità di regista E i WNA ovvero Wender e Fabio Alisei in forza a Radio DJ e Paolo Noise Tornato come il figlio del prodigo a Radio 105 Sono state rappacificate finalmente le parti dopo 4 anni di guerre Punzecchiamenti e cose varie Perché i WNA se ne erano andati da Radio 105 Non proprio in maniera pulitissima Allora si sono congedati dopo 4 anni Meglio tardi che mai Dal pubblico che per almeno una decina d'anni li aveva sostenuti Ricordiamo domenica sera dopo Genoa Sampdoria Il secondo appuntamento con Emi Genoa Next Teenager Americana E domani sera non saremo in diretta con Scalo 208 Quindi l'appuntamento con la nostra classifica è rinviato a sabato quello successivo Domani andremo io, almeno personalmente, andrò a seguire i mondiali La quarta giornata dei mondiali di palla a volo femminile Presso il Pala EUR, il Pala Lottomatica di Roma Alle 17 Repubblica Dominicana Argentina E alle 20 Italia Germania Forza Azzurre Andiamo a questa seconda fase e facciamo il culo a tutti gli altri Perché insomma lo si deve fare dopo la magra figura purtroppo patita dalla nazionale maschile Nella controparte appunto maschile dei mondiali In cui purtroppo ci si è fermati soltanto alla seconda fase con un miserrimo dodicesimo posto Dettoci io, andiamo con i pensieri stupendi della buonanotte Quando un giorno, vista l'ora, sta per finire Ed un nuovo giorno sta per incominciare Un giorno in più per amare, per vivere, per sognare Per dire ancora una volta Li vuoi quei kiwi? Non li ringraziamo mai abbastanza ai nostri amici di In Segreto Allora, io e il mio ragazzo siamo stati insieme per circa due anni Ero convinta che il nostro fosse amore vero Ma un giorno un tizio col numero privato Mi manda un video di lui e la mia migliore amica Che scopano Caro stronzo, non sono stati dei pirati della strada a sfasciarti la macchina Questo non avevamo letto E lo so, l'avevamo letto ieri Però temo che non si sia sentito Quindi meglio le repliche Ripetita Juventus E poi Non mi faccio la ceretta alla patata Perché ho paura di venire davanti all'estetista Sono felicemente fidanzata da cinque mesi E ho una vita sessuale abbastanza attiva Il mio segreto Non so cosa si prova ad avere un orgasmo Ed ogni volta non so mai se sono venuta o meno E più forte di me non riesco a capire E a chiusa Tutti mi chiedono come faccio ad essere così bravo in inglese Il segreto è che fino ai 12 anni aveva alcuni amici Immaginari inglesi e anche attori famosi Che mi parlavano in inglese Ringrazio Saro Zappala Noi ci sentiamo domani E domenica sera con Geno Sampdoria Dal vostro presentatorino Buonanotte Ciao